E' un libro che stupisce, perché è un libro ricchissimo di esperienze di vita e di una vita che a tratti è persino avventurosa. E' un libro che stupisce anche perché ci apre un mondo diverso da quello che i media ci hanno presentati e ci fa conoscere aspetti della cultura medio orientale che per certi versi ci portano all'infanzia. E mi sono commosso leggendo degli assiri, ero convinto che gli assiri fossero qualcosa che riguardasse il passato, il sussidiario delle medie, il libro del bienio delle superiori, invece gli assiri ci sono ancora e si uniscono minoranza nella minoranza a una storia che precede l'invasione araba, la diffusione dell'islam e continua a tutt'oggi. Con risvolti culturali ricchissimi, ampi e con un fascino che ha qualcosa di più dell'esotico, perché in fondo si tratta di una storia che è lontana dalla nostra ma ha le radici in comune con quelle della nostra civiltà. Ricordiamoci che l'Iraq è una creazione artificiale avvenuta dopo la Prima Guerra Mondiale. Basta guardare una carta geografica per accorderci che i suoi confini sono stati tirati con il righello e la squadra. Quindi qualcosa che non funziona da quelle parti è più che evidente. A suo modo l'impero ottomano aveva raggiunto una sorta di equilibrio, il cosiddetto millet, in cui differenze etniche e religiose convivevano. I confini imposti dalle potenze coloniali europee non concidono in nulla con quelli delle tradizioni etniche e religiose lunghe secoli e secoli che le precedono. Si scopre proprio leggendo il libro che esistono queste grandi minoranze ma che sono minoranze trasversali. Esiste una chiesa siro-cattolica, esiste una chiesa sira, esiste una chiesa caldaica che ha radici antichissime, che sopravvive in Iraq, in Libano, in Siria, che non si identifica con nessuno di questi stati, come è giusto che sia, ma che oggi è vittima, paradossalmente, di l'identificazione brutale tra politica e religione attraverso l'ISIS e la violenza che il fanatismo islamico sta portando avanti da quelle parti. La quotidianità domina tutto il volume. Nella eccezionalità della quotidianità sta proprio la capacità di sorprendere in questo libro. È quotidiano perché è eccezionale, nel senso che si tratta di cose di tutti i giorni in una civiltà, in un contesto lontano dal nostro, capace di stupirci nel constatare differenze, ma anche tante somiglianze, col mondo di affetti, col mondo di sentimenti, col mondo di impulsi religiosi, psicologici che ha in comune con noi, espresso però in forme così differenti dalle nostre. Grazie a tutti.